Il grande Maggi è la candidatura migliore che poteva mettere in campo, giovane, è una persona del fare, è una persona che ha dimostrato buone capacità fino adesso in altri campi, le dimostrerà anche nella politica, nella buona amministrazione e poi ha messo in campo una buona squadra, tanti giovani, mi sembra la scelta migliore per Casarante. Secondo lei in che cosa potrebbe essere diverso? Sicuramente lo spirito col quale si sta muovendo è quello giusto, grande determinazione e io per questo lo appoggio.